Ciao Stefano, benvenuto. Grazie mille, ciao a te Cristian. Allora, innanzitutto ho fatto i complimenti a Stefano per la sua ambientazione che è molto bella. Lo studio che tutti sognano, isolato, tranquillo, con i travi, bello, 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 mi piace, bravo. Allora, oggi parliamo di un tema che tu pensavi di dire a me, però poi io ho detto no, guarda che sono io che devo intervistare te, quindi l'abbiamo tirato. Allora, tre caratteristiche che ti rendono diverso, comunque unico rispetto a tutti gli altri uomini, no? E da dove nasce l'idea di questo titolo? Perché tu chiaramente dici sempre no, bisogna essere diversi dagli altri uomini, bisogna essere spiccari in mezzo alla massa e quant'altro, bene. Quindi tu, che caratteristiche hai secondo te che ti rendono unico e in che modo appunto hai trovato utilità in questo concetto? Allora, in realtà, secondo me, tutto sta sul fatto che, diciamo, le ragazze sono abituate ad avere un sacco di segnali, un sacco di approcci da persone, diciamo, che non hanno avuto un'esperienza oppure che non hanno un metodo dietro. E quello che poi si nota è che ci sono proprio degli approcci proprio brutti. E già soltanto il fatto che tu sei diverso dagli altri, quello che ho notato è che ti fa distinguere in automatico dalle persone. Anche banalmente il andare a approcciare una persona e fermarla per strada, che è una cosa che, cioè, la persona media, il maschio medio si limita a guardare, a guardare la ragazza, dice nella sua testa, wow, che bella, mi piacerebbe scambiarci due chiacchiere e poi in realtà non si concretizza. Magari la ragazza lì ricambia lo sguardo, ma è finita lì. Cioè tu, se semplicemente il, prendi la responsabilità di andare a parlarci, scambiare due chiacchiere, che poi l'interazione sia positiva oppure no, già questa cosa qua nella testa della ragazza fa pensare, wow, che figata, perché non mi è mai capitato. Cioè io molte volte mi è capitato di andare ad approcciare delle ragazze, di andare a conoscere, a fare due chiacchiere e una frase che si ripeteva molto spesso è stata una roba del tipo, anche se non scambiavo il numero oppure il contatto su Instagram, è stato wow, comunque figata, cioè non è una cosa che fanno tutti, quindi l'ho apprezzato davvero tanto. Quindi è un po' la questione del lasciare il segno nella vita delle altre persone. È molto bella questa, complimenti. È una bella cosa perché l'hai vista nella giusta chiave costruttiva, cioè la ragazza comunque se tu hai una certa dose di coraggio si ricorderà di te, c'è poco da fare, perché quando lei esce non ha tutti che ci provano ogni giorno dal vivo, ha tutti che ci provano da dietro lo schermo, che è facile, no? Perché dietro lo schermo sai, basta battere i tasti, ma fallo dal vivo e poi vediamo, poi si riparliamo, no? Sì, no, infatti, ma anche, cioè, già solo questo secondo me racchiude un sacco di cose che ci sono dietro, quindi il fatto di non avere paura del giudizio, il fatto di non sopravvalutarla, perché molte volte, ad esempio, una cosa che avevo iniziato io all'inizio, che mi rendevo conto, era che c'era questa roba qua della donna, che era la dea indiscussa della terra, che, ma perché dovrei andare a parlarci, che, cioè, oddio, la disturbo, tutte queste cose qua, che poi alla fine mi sono reso conto, anzi, ci sono state delle ragazze che magari sono andato a, diciamo, scambiare proprio una parola con due battute, giù di lì, e hanno proprio il riso di gusto, come per dire, minchia, finalmente qualcuno che mi ferma, che vuole parlare con me, tutti che si limitano a fissarmi, queste cose qua, che poi dopo un po' mettono anche disagio, ho parlato giusto due giorni fa con una ragazza che mi fa, siamo andati sul discorso, ma perché, cioè, la gente ti fissa, secondo te, piuttosto che andarti a parlare dal vivo, e lei mi ha confessato che sta cosa qua, dopo un po', a, stufa, e b, se fatta per tanto tempo, mette anche ansia, cioè, oddio, cosa sei, uno stalker che mi inizia a fissare, e quindi, cioè, io quello che proprio ho notato è che, cioè, questi approcci qua ti cambiano nella vita perché proprio vai a scavare dentro di te quelli che sono le tue credenze, le vai a rimodificare, vai a diventare una persona totalmente diversa, e poi ti rendi conto che è una cosa normalissima, cioè, è normale andare a parlare con una persona, a scambiare due chiacchiere, e poi, oh, se magari è una persona interessante, perché non ci può nascere qualcosa, ma non è obbligatorio, cioè, quello è il discorso che, che secondo me è fondamentale, cioè, sono io che devo capire nella mia vita se quella persona lì fa il caso mio, cioè, sono io che sono una persona che fa selezione, non devo, io vedo anche molti miei amici che sono, diciamo, bloccati in una relazione, perché in cui si trovano male, però non c'è stata scelta, cioè, nel senso, la relazione è andata come è andata, cioè, si sono trovati, non c'è stato, diciamo, un rapporto di seduzione, uno che ha scelto l'altro, e poi magari si trovano bloccati in una situazione, e non vogliono uscirne, anche se sanno che gli fa male, per il semplice motivo che poi cosa fanno? Cioè, hanno paura di rimanere a soli, di, cioè, non sentirsi più l'altezza, tutte queste cose, io ho iniziato a fare questo percorso, perché ho deciso di dire, ok, cioè, io nella mia vita voglio essere una persona che sceglie, cioè, io voglio essere nella mia vita una persona che non ha paura di dovermi mollare dopo, che ne so, due, tre, cinque anni di relazione, perché non abbiamo più gli stessi obiettivi, perché non ci va più bene come non ci troviamo più, cioè, non voglio essere una persona fossilizzata, che sta male, che vive male. Assolutamente, questo è un grandissimo concetto, ti dico, ti ascoltavo proprio con, cioè, rimaniamo fermo, perché questa è una grande riflessione, quella che tu hai fatto, che, dico, mi riconoscevo anche in queste riflessioni qua, che voi studenti oggi avete fatto, perché prima di te ho intervistato anche altri ragazzi, e ti dico, caspita, mi ci rivedo, vedo il me stesso di qualche anno fa, no? Tutte queste idee che cambiano, prima un ragazzo mi ha parlato del fatto che, Federico, che lui conosceva le ragazze solo a caldo, e io gli ho detto, guarda Federico, avevo lo stesso identico problema, cioè, io mi trovavo lì a cena con le coppiette, i miei amici, eccetera, dicevo, ma se io rimango sempre qua, io, come faccio a conoscere le ragazze nuove e scegliere? Ma impossibile, perché, cioè, siamo sempre qua, conosco già queste persone qua, mi fidanzo con quella del paese, fine, mi adatto, no? E quindi queste riflessioni che voi fate sono assolutamente corrette, perché sono figlie del percorso che state intraprendendo. E tu hai già fatto un corso al vivo, giusto? Sì. Cosa provi nel momento in cui vai a modificare con l'esperienza pratica le credenze che erano consolidate dagli anni precedenti, no? Perché la donna era vista, no, ma fuori la disturbo se vado a parlarle, e poi al corso al vivo invece vai a parlarle, e lì cosa scatta dentro di te? Come avviene questa trasformazione data dall'esperienza di vita vissuta? Ma allora, secondo me avviene in tanti modi diversi. Io l'ho visto proprio la differenza che c'era tra i miei compagni di corso, come reagivamo, quali erano le motivazioni che ci spingevano, nonostante le nostre credenze iniziali ad andare ad approcciare. Per me, io ho fatto formazione, lo sto ancora facendo per tanti anni, quello che per me ha fatto la differenza è stato dire, ok, sono in questa situazione, non voglio più essere in questa situazione, anche se ho un po' di paranoia mentali, vabbè, vado, tanto alla peggio cosa può succedere? Cioè nel senso mi dici di no, no, grazie, cioè non è che perdi, cioè non succede niente, poi questa ragazza qua non la vedrò più, quindi finisce lì. Secondo me c'è proprio da lavorare tanto, e tra l'altro nel corso all'inizio è stato proprio fatto una parte di questo punto di vista del dialogo interiore, cioè la paura del rifiuto, la gestione, diciamo, di tutti quei paradigmi in testa, tipo se vado a disturbo, cioè alla fine vai, fai due chiacchiere con una persona, finito. Sì, ho fatto anche un video sul dialogo interiore, perché penso che sia molto importante, no? Come noi alimentiamo le nostre credenze, cosa dici a te stesso, perché cosa tu dici a te stesso poi si riverbera nei risultati esterni. Beh, che dire, Stefano, è stata veramente una chiacchierata bellissima, mi è piaciuto molto, infatti ti ho ascoltato proprio con una dedizione, è stato un piacere. Grazie a te, grazie per avermi dato l'opportunità di condividere. Ciao, ciao, ciao. Ciao.